cari amici dopo aver visto l'esterno del fantastico mega 65 ora diamo un'occhiata all'interno ecco qui potete vedere la scheda madre potete vedere il reale lettore di floppy disc a tre pollici e mezzo potete vedere l'interno della tastiera lo sportellino della trap door ecco ancora per voi una panoramica potete notare l'incredibile ordine pulizia della scheda madre con le porte esterne con l'accensione e le porte per mouse e joystick che dire cari amici una vera meraviglia questo è ad oggi l'unico prototipo pre serie in italia ed è il numero 15 un caro saluto a tutti